Siamo in compagnia di Mattia Gaspari, uno degli atleti di punta della Nazionale dello Scheleton, se non l'atleta di punta che è riduce da due stagioni molto sfortunate. Tutto è partito da un infortunio al tendine d'Achille e poi purtroppo è continuato e proseguito. Però ti sento bello carico, è arrivata questa Olimpia del 2026 a casa tua, a Cortina, e poi comunque sei molto giovane ancora. Sì, purtroppo questo doppio infortunio perché alla fine a distanza di un anno si è rirotto più in basso, quindi ho dovuto rimanere fermo ai box per due stagioni agonistiche alla fine, quindi due stagioni invernali che comunque mi hanno tenuto lontano dal ghiaccio, dove comunque mi è mancato tantissimo sicuramente. Poi sono comunque uno che fa sport da una vita, quindi per me l'agonismo è oramai una parte di me. Quindi poi vederli da casa è sempre un po' sulle spine, perché uno vorrebbe essere lì chiaramente. E adesso meno male, ho risolto tutto, tutte le mie varie problematiche, quindi adesso sono pronto per iniziare la prossima. Una stagione che inizierà chiaramente magari non nel circuito di Coppa del Mondo, si inizierà gradualmente, non hai preso parte di questi campionati italiani proprio per ripartire con calma, c'è tempo, e poi soprattutto la voglia c'è quella di tornare, perché tu prima dell'infortunio stavi pian piano scalando, entrando costantemente nella top ten di Coppa del Mondo. Sì esatto, ero arrivato comunque a un buon punto, mi ero attestato comunque su un buon livello, nel senso che riuscivo appunto a essere stabile nei primi dieci e quindi stavo cercando di fare dei passi per arrivare sempre di più nei primi sei o agguantare magari quello che è un ipotetico podio. Poi purtroppo appunto mi sono fermato, però infatti questa stagione cercherò comunque di riabituarmi a quello che è il clima di gara, alle varie discese, alle varie tempistiche, le varie, non dico problematiche, ma le varie cose da risolvere per appunto poter andare forte e quindi questa stagione partirò con calma, tra virgolette, con la Coppa Europa, forse qualche gara intercontinentale il primo periodo e poi dopo il secondo vedremo in base a come va il primo periodo. E soprattutto quanto entusiasmo c'è stato e quanto entusiasmo c'è nel mondo del Bob e dello skeleton che magari prima non c'era quando è arrivata l'ufficialità dell'organizzazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e soprattutto per un personaggio come te che sei di Cortina da un pezzo, sapere che le Olimpiadi si terranno a quasi 200-300 metri da casa tua, che cosa significa per te? Sicuramente c'è stata una grandissima emozione per tutti, immagino, sia per il Bob che lo skeleton, ma non penso solo italiano ma anche internazionale perché la pista di Cortina rimane ed è tuttora un gioiello indiscusso di abilità di guida dove proprio il pilota fa la differenza, quindi riaprire un impianto così è sicuramente una cosa bellissima. Il fatto appunto di averle in casa, in casa, cioè proprio a casa, è una sensazione bellissima perché paradossalmente io sto meno da casa mia arrivare alla partenza che dal villaggio olimpico alla partenza, quindi più di così non potevo chiedere, quindi io sono contentissimo. Quindi tu stai dicendo che non verrai in villaggio olimpico in caso se dovessi qualificarti per Olimpiadi ma staresti a casa tua? Questo non lo so, ho solo detto che comunque la distanza è più corta da casa mia, poi dopo tempo al tempo. Bocca al lupo. Grazie.